Il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha annunciato che in base ai dati sulla campagna vaccinale riapriranno prima le regioni più virtuose tra fine aprile e inizio maggio e l'Abruzzo è tra queste. L'ho evidenziato il governatore Marco Marsiglio nel corso della trasmissione di Rete 8 e fatte le opinioni condotta dal direttore Carmine Perantuono, che ha affrontato tra i vari argomenti anche quello relativo alla riapertura delle attività fortemente penalizzate dall'emergenza coronavirus. Sollecitato anche dalle domande del direttore del quotidiano Il Centro, Piero Anchino, il presidente Marsiglio ha affermato che l'Abruzzo già da tre settimane sarebbe da zona gialla, poiché ha l'R con T sotto l'1 e il trend è in discesa. Potrebbe esserci la possibilità di riaprire anche nella parte finale del mese di aprile. Ecco, le vorrei chiedere, l'Abruzzo come si pone in questo contesto? Adesso non parliamo più di tamponi, parliamo di riaperture legate alla campagna di vaccinazione. Non siamo più ai contagi, all'RT, all'indice RT, siamo a che punto ci troviamo nella campagna di vaccinazione per le riaperture, perché le riaperture diventano un aspetto fondamentale della vita della nostra comunità. Il malcontento cresce, abbiamo visto a Roma quello che è accaduto negli ultimi giorni, teme che l'Abruzzo non possa far parte delle prime regioni. Io intanto sottolineo il fatto che l'Abruzzo sarebbe già da tre settimane in zona gialla, perché i dati sono quelli, abbiamo un R con T sotto 1, questa settimana c'è una leggerissima risalita da 0,81 a 0,89, ma la nostra regione è da ormai quattro settimane con l'indice sotto 1, siamo al limite della soglia del 30 e del 40% rispettivamente dell'occupazione dei posti letto in ospedale e comunque siamo con un trend in discesa, abbiamo superato la fase critica della terza ondata. Dopo un mese che noi continuiamo a mostrare dati da Regione Gialla, penso che l'Abruzzo possa meritare di essere tra le primissime regioni che riaprono, non tra le ultime, le analisi del sangue, i raggi X li facessero ad altri, perché la nostra condizione è quella che ho descritto. Nella cabina di regia che avete avuto ieri c'è già una data in cui si può pensare al cambiamento di colore? Si parlava del 20. No, ieri in realtà questo incontro con Draghi è stato focalizzato sul piano nazionale di recupero e resilienza. Date non le possiamo dare per il cambiamento di colore? No, soprattutto non le posso dare io. Per la reintroduzione del giallo.